10 km solidari outdoor by Valle Tudo, un nuovo evento che si terrà alla vigilia di Pasqua. Giorgio Pesenti, di cosa si tratta? Si tratta di una bellissima gara di 10 km, su due giri, sarà interamente ubicata nel centro di Rota di Magna. Ci saranno due passaggi molto caratteristici sotto la casa dell'architetto Giacomo Quarenghi. Questa gara è stata pensata in modo solidale, lo dice anche il nome, e praticamente si devolveranno 3 euro ogni atleta alla Caritas per i terremotati del centro Italia. Che tipo di percorso sarà? Sarà un percorso l'80%, stradale il 10%, su una mulattiera che porta proprio sotto la casa natale del famoso architetto Valdimagnino. Come ci si può iscrivere? Ci si preiscrive sul sito Pico Sport, dobbiamo sapere il numero degli atleti che parteciperanno per poi offrire un pasta party alla matriciana. Giovanni Locatelli, sindaco di Rota di Magna, quest'anno ricorre il bicentenario della morte di Giacomo Quarenghi. Esattamente sì, quest'anno Rota di Magna celebra il bicentenario della scomparsa del grande architetto Giacomo Quarenghi. Ricordo a tutti chi è un architetto Valdimagnino perché è nato proprio nel paese di Rota di Magna, di cui io sono sindaco e ho l'onore quest'anno di celebrare il bicentenario della morte di Giacomo Quarenghi. Abbiamo in atto tante attività per la ricorrenza di questo bicentenario. Sono molto felice di aver conosciuto in questa occasione Giorgio Pesenti, presidente della Valle Tudo, che abbiamo un amico comune che ci ha fatto incontrare. Da qui è nato questo progetto per questa prima gara che poc'anzi Giorgio vi ha accennato. Quindi sarà uno dei modi per celebrare questa ricorrenza? Assolutamente sì, è uno dei modi perché poi nel paniere di Rota di Magna abbiamo tantissimi altri eventi già pensati, magari poco enunciati per il momento. Dura tutto l'anno questa ricorrenza in cui abbiamo tantissime attività dedicate a Giacomo Quarenghi. Sono dedicate perché è stato un grande architetto che è partito da Rota di Magna, essendo nato a Rota di Magna, ha fatto Bergamo, è andato a Roma, Venezia, per poi approdare alla grande Russia. E lì è stato l'apice della sua carriera. La 10 chilometri rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio della Valle di Magna? Assolutamente sì, questo come si diceva prima è l'inizio. Abbiamo un grande progetto che stiamo vagliando con tante associazioni, con tanti enti del territorio della Valle di Magna, è il Sentiero dei Giganti. Già il nome la dice lunga. Il Sentiero dei Giganti appunto perché abbiamo l'architetto Giacomo Quarenghi, perché abbiamo il pittore Antonio Sibella, abbiamo il maestro del ferro Mazzucotelli, abbiamo tanti personaggi nati nel nostro territorio di Rota di Magna. E quindi il Sentiero dei Giganti è stato il nome proprio del Sentiero dei Giganti, è un po' dedicato a loro. È un Sentiero dei Giganti che è stato realizzato un po' di anni fa, ma mai probabilmente valorizzato e, come posso dire, promozionato. E quest'anno potrebbe essere l'occasione buona di avere un grande evento su questo percorso, che è un percorso di 25 chilometri, tocca cinque paesi della Valle di Magna, partendo da Sant'Omobono, arrivando a Corna, a Locatello, arrivando a Fui Piano, arrivando a Brumano, scendendo a Rota per poi ritornare a Sant'Omobono. È un anello bellissimo, lo stiamo, come posso dire, rivalorizzando e quindi merita un buon evento, una buona occasione per far riscoprire non solo il percorso, ma l'intera Vallimagna. Grazie, grazie Sindaco. Grazie a voi tutti.